impariamo questo bel riff in slap tratto dal mio metodo advanced slap bass grooves puoi trovare le informazioni qui sotto questo metodo è la conseguenza di easy slap tra l'altro li trovi tutte e due i metodi in un libro cartaceo in vendita su amazon quindi puoi cercare il libro cartaceo se preferisci allora partiamo con un do fatto in thumb poi abbiamo un bel pull off do si bemolle strappato acuto poi facciamo ghost note sulla corda di re con il thumb e sempre con il thumb un emmeron fa e sol in emmeron è molto usata questa cosa del pull off e poi ghost ed emmeron arrivato a questo punto strappiamo la corda sol con una ghost note questo perché perché dobbiamo spostare la mano quindi molto spesso per spostare la mano utilizziamo delle ghost note infatti è un pochettino difficile da coordinare come cosa però poi è molto utile perché ci permette di smanicare o muovere comunque la mano sinistra infatti dobbiamo cadere con il pollice sul mi bemolle al tasto 1 della corda di re dopo facciamo un altro emmeron con il pollice mi bemolle fa e la ghost note strappata sulla corda di sol per tornare a do proviamo a fare la prima battuta insieme e ritorniamo qua questo è un pochettino il riff portante poi ci saranno a fine a fine giro sull'ultimo quarto degli abbellimenti infatti se nella seconda battuta tutto uguale e qua il quarto quarto invece facciamo così abbiamo fatto il mi bemolle staccato in thumb strappiamo il si bemolle io strapperei il si bemolle con il bignolo o l'anulare poi con la ghost sulla corda di re sposto la mano e vado a fare fa sol in emmeron con il thumb niente ti impedisce però di arrivare già col si bemolle con l'uno tu sei su mi bemolle va benissimo anche così però proprio se riusciamo a sfruttare le ghost note per spostare a mano riusciremo a portare su di velocità il riff terza battuta uguale alla prima facciamo insieme e cadiamo sulla quarta battuta la quarta battuta va un pochettino a risolvere fare un turnaround per poi ricominciare dalla prima la prima parte è uguale fino qua fino al fa sol fatto in emmeron poi abbiamo tre ghost note anche qua sono tre perché dobbiamo spostare la mano di abbastanza qua andiamo a smanicare andando fino al tasto 8 con il dito 1 qua suoniamo che che suono devo far controllare il tasto mi sa mi bemolle mi bemolle scusami fa quindi tasto 8 corda la fa poi abbiamo il mi bemolle strappato e poi il do fatto col mignolo al mio bemolle ci arriviamo con uno slide infatti viene segnato anche con la lineetta però prima avevo ancora le tre ghost note vedi come sposto la mano mentre vado a fare le ghost sposto la mano poi a un certo punto inserisco lo slide per cadere poi sul fa e poi abbiamo questa specie di barrè con l'uno quindi io tengo uno per beccare anche mi bemolle e poi o col tre o col quattro vado a prendere il do facciamo quest'ultima battuta e poi ripartiamo da capo il riff è tutto qua quindi io ti auguro un buon lavoro e grazie per aver seguito il video fino alla fine ciao alla prossima ciao 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 ciao